Ciclisti, automobili e pedoni, una convivenza troppo spesso complicata, in città come pure fuori. Qui siamo in via Cabella, nel quartiere di Borgo Ticino, immersi nel verde a due passi dal centro storico. Tra gli alberi ed il fiume nascerà una nuova pista ciclabile, che collegherà Pavia alla località Chiavica, nel comune di Travacosiccomario. Un progetto portato all'attenzione del comune grazie ai fondi del bilancio partecipato. Io mi sono fatta promotrice, oramai tre anni fa, di questa iniziativa, quando ho letto che era possibile, diciamo, attraverso il bilancio partecipato, finanziare un'opera che poteva essere molto utile ai pavesi, e non solo, appunto, a quella della pista ciclabile Cabella-Travacos, perché è un tratto di strada molto pericoloso, molto frequentato da, oltre che da tutti i mezzi, oltre che dai ciclisti, anche da chi fa sport e va a correre su questa strada. E quindi constato regolarmente che è un tratto molto pericoloso. Da qui è nata l'idea di diffondere un po', attraverso le mie conoscenze, l'idea di raccogliere le firme e di proporre questo progetto al comune di Pavia. Il comune ha accettato il progetto e così doveva partire questa pista. Si deve attendere che con la nuova amministrazione, visto il passaggio, il progetto vada avanti. Speriamo, speriamo. Io ho fiducia, come le dicevo, e spero di vederla realizzata entro l'estate. Non lo so, mi diranno qualche cosa, forse, in quanto promotrice del progetto. L'opera consentirà finalmente ai ciclisti il transito in sicurezza per i 500 metri della pista e rientrerà nella ciclovia Vento che collega Torino e Venezia. È previsto, ma non ancora approvato, l'uso di materiali autoilluminanti, capaci cioè di assorbire la luce di giorno e rilasciarla di notte, per illuminare il percorso rispettando la natura. Con questi soli 500 metri studiati in maniera particolare, si potrà collegare la zona di Borgo Ticino, la zona parco Rossignoli dietro alla cooperativa per intenderci, alla zona della Chiavica. Da lì poi Travacò farà il suo piccolo pezzetto e diventerà un collegamento unico con i 14 chilometri delle piste ciclabili del Siccomario da un lato e lungo il Gravellone c'è un'altra zona ciclabile che arriva poi a collegarsi fino alla zona del Bivio Gravellone con Borgo Ticino e si innesterà poi alla quasi imminente partenza della pista ciclabile San Martino-Borgo Ticino. Che tempi avrà questa opera per la sua realizzazione? Ecco, sui tempi la gente pretenderebbe sempre subito per non dire domani, però chiedo di portare ancora un poco di pazienza. Il progetto per intenderci, oltre a essere esecutivo e finanziato come dicevamo, almeno per il 50% della regione Lombardia, c'è già la gara, è già stato assegnato l'appalto per i lavori, si sta attendendo solo l'ultimo via libera finale dalla paesaggistica per intenderci, dal parco del Ticino e soprattutto perché ci vuole un permesso per poter abbattere alcune piante di robinia e soprattutto per avere le prescrizioni sui materiali opportuni compatibili con l'ambiente da utilizzare per la pista. Un investimento da 260.000 euro con un cofinanziamento della regione al 50%. Un progetto serio ed innovativo anche per la nuova maggioranza di centrodestra che si è detta disponibile a valutare altre iniziative rispetto ai temi della mobilità sostenibile. Ovviamente trattasi di un qualcosa già finanziato tramite i fondi del bando partecipativo, se non sbaglio, nel 2016. È un progetto sicuramente valido, anche innovativo se vogliamo, da alcuni punti di vista. Certo va incontro a tutta quella che può essere una mobilità sostenibile, ma veramente sostenibile, non come quella che ci è stata propinata e propagandata in questi anni dall'amministrazione De Paoli. Ovviamente tutti i progetti che sono e possono essere, anche per quanto riguarda il futuro, validi e fattibili, noi saremo ovviamente disponibili alla realizzazione e ad una seria valutazione. Le buone idee di solito non hanno colore politico. Questa è stata sicuramente una buona idea finanziata e votata dai cittadini tramite il bilancio partecipativo. Ovviamente ben venga qualsiasi cosa possa essere fatta nel vero interesse della cittadinanza e nel vero interesse di una mobilità sostenibile che sia veramente sostenibile e che sia veramente una mobilità orientata a facilitare la vita e il percorso ciclopedonale o veicolare della cittadinanza e dei cittadini pavesi.